Mentre a Vallefoglia il nuovo Teatro Santi di Bottega va concludendosi la prima settimana del progetto 50x50 Capitale al Quadrato, per il secondo passo Pesaro 2024 si sposta di appena una manciata di chilometri, ovvero Petriano, protagonista della seconda settimana dal 29 gennaio al 4 febbraio, focalizzata su due appuntamenti portanti. Un'idea vincente, ringrazio particolarmente il Comune di Pesaro e tutto il suo staff perché ci ha permesso a tutti i comuni della provincia di partecipare a questo evento importantissimo per il nostro territorio. C'è entusiasmo all'interno del paese, all'interno delle associazioni e comunque dalla prossima settimana avremo due sere in cui ci saranno sia dei residenti che non con le associazioni che hanno organizzato questi due bellissimi eventi primari. Poi ci sono altri piccoli eventi che comunque rappresentano questa settimana. Il primo di febbraio che sarà un concerto alla chiesa di San Martino nel castello di Petriano di Pianoforte con l'intervento del coro polifonico in canto e poi la serata del 3 di febbraio abbiamo un'edizione speciale del Gallo d'Oro, del Festival di Gallo d'Oro, lo facciamo a Gallo, al Centro Sociale, alle 9, è un festival per noi molto molto importante quindi lo vogliamo riproporre e lo vogliamo fare partecipare a questo evento di Pesaro Capitale della Cultura. La serata racchiuderà un po' le caratteristiche del nostro festival che normalmente si svolge a luglio e faremo la prima serata invece il primo di febbraio nella chiesa San Martino di Petriano, nelle Mura, questa piccola chiesa storica racchiuderà un concerto di pianoforte tenuto da Cesare Donati e la corale di Gallo anche che farà una piccola introduzione. Invito poi anche tutti voi a fare una passeggiata all'interno del nostro percorso naturale giù a Gallo dove in questo percorso ci sono delle panchine dove potrete leggere delle poesie grazie alla poetessa Lilli che negli ultimi due anni ha portato in questo percorso delle poesie di poeti locali. Grazie. Grazie.